Le ruspe sono entrate in azione questa mattina ad Afragola, nel popoloso rione Salicelle. In pochi minuti è andata in maceria la cappella votiva riconducibile al sodalizio dei Bizzarro. Un'operazione che ha visto insieme più forze dell'ordine. Sul posto c'erano infatti carabinieri, polizia, guardia di finanza e agenti della polizia municipale. L'opera fu realizzata oltre 15 anni fa in uno spazio comune dell'isolato 19. La demolizione rientra nel programma avviato dalla prefettura di Napoli contro Muralex e Altarini abusivi. E proprio a prefettura e forze dell'ordine sono arrivati in giornata gli apprezzamenti del Viminale, che in una nota sottolinea che prosegue con determinazione l'operazione di rimozione dei manufatti abusivi nel napoletano per ripristinare la legalità e contrastare il degrado urbano. È un segnale forte contro i simboli della criminalità organizzata sul territorio, commentato il ministro dell'interno Luciano Lamorgese.